Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno Pietro e Giovanni, qualche giorno dopo, salgono al tempio all'ora del sacrificio vespertino. Presso la portabella del santuario uno storpio, un quarantenne, chiede loro la lemosina. Pietro non ha in tasca nemmeno un soldo, però gli dice Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina! E lo prende per la mano destra e lo solleva. Di colpo i suoi piedi e le caviglie se l'invigoriscono, balza in piedi e cammina. Saltando e lodando Dio, davanti ai due apostoli, entra con loro nel cortile degli uomini. La gente che va al tempio, conoscendo lo storpio mendicante, resta meravigliata e incuriosita di quella sceneggiata, e fuori di sé per lo stupore, s'affolla attorno a loro. Pietro, forte del prodigio avvenuto nel nome di Gesù e della presenza del miracolato, prende la parola e dichiara ad alta voce che opera di Gesù, quel Gesù che essi hanno rinnegato e consegnato a Pilato. Rinnegato il Santo, il giusto, ucciso il Principe della vita, ma che Dio ha risuscitato dai morti e di questo loro due sono testimoni. Riconosce che peccarono per ignoranza, ma rammenta loro che di Gesù Messia i profeti avevano predetto la morte. Invita tutti a pentirsi e a cambiare vita, se vogliono ottenere le benedizioni promesse ad Abramo. La ringa di Pietro a una folla, in continuamento, richiama l'attenzione del capitano delle guardie del tempio, dei sacerdoti, dei sadducei. Essi accorrono e arrestano Pietro e Giovanni, re di disturbo in luogo sacro, che vengono messi in prigione, dato che è sera. Però la parola di Pietro e lo storpio che protesta per l'arresto dei due apostoli persuadono molti ascoltatori ad aderire alla nuova fede in Gesù Messia. Il giorno dopo è convocato il Supremo Tribunale di Israele, il Gran Consiglio, per giudicare i due prigionieri. Il sommo sacerdote chiede loro chi li abbia autorizzati a predicare, nel recinto del tempio, di Gesù falso profeta, condannato alla morte di croce. Pietro, pieno di Spirito Santo, con chiarezza e coraggio risponde che lo storpio, che sta loro innanzi sano e salvo, ha ottenuto la salute da Gesù, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha riuscitato dai morti, e nel quale soltanto c'è la salvezza rivina. C'è un imbarazzo generale per la franchezza di quei due essenzi istruzione popolani, che vengono fatti uscire. Il Consiglio, considerata la pubblicità del prodigioso evento, decide soltanto di proibire ai due apostoli e ai loro compagni di parlare in pubblico di Gesù, pena la prigione. Richiamati in aula, Pietro e Giovanni, alla sentenza del sommo sacerdote, rispondono «Non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato». Rimessi in libertà, tornano a casa dei loro fratelli e con loro pregano Dio che conceda loro, suoi servi, di annunciare con tutta franchezza la tua parola, di compiere guarigioni, nel nome del tuo santo servo Gesù. D'improvviso la casa trema. Tutti i presenti sperimentano di essere pieni di Spirito Santo, e si ripromettono di annunciare la parola di Dio con franchezza.